Musica Il Consiglio dei Ministri ha deciso, sarà Guido Longo, l'ex prefetto di Vivo Valencia, il commissario della Sanità Calabrese. Intanto la regione diventa zona arancione, riaprono i negozi, scuola media in presenza anche per seconde e terze. Sempre alto il numero dei contagi in Calabria, 468 su quasi 3.000 tamponi effettuati, altre 5 decessi sul territorio regionale. Costato oltre milioni e mezzo di euro, l'ospice di Rogliano non è mai entrato in funzione, spazi e posti letto a volontà, ma nessuno l'ha mai preso in considerazione. Perplessità, espressa da un'industria e assoturismo sui Covid hotel, metallo e farina, invitano a guardare in direzione degli ospedali chiusi. Smantellate le piazze di spaccio tra Cosenza, Rende e Montalto, scoperto anche un giro di prostituzione coinvolte due ragazze romene. Cinque persone sono state arrestate da polizia Gioia Tauro, sospettate di essere autori di una serie di rapine e danni di autisti, furti in abitazioni e spaccio di droga. E' stato arrestato con l'accusa di terrorismo un trentenne di Luzzi. Nella sua abitazione è trovato materiale fortemente indiziario. Buonasera dalla redazione del TGT, in pomeriggio intenso di scelte, scelte importanti per la Calabria. Intanto il commissario per la sanità, dopo i tanti ripensamenti, i rifiuti, le indecisioni e le GAF, l'ultima indecisione è quella di Miozzo. Arriva invece il nome del commissario, sarà Guido Longo, è stato prefetto di Vivo Valencia negli anni scorsi. E poi c'è un'altra novità che riguarda invece la zona rossa che cessa da domenica in Calabria e la Calabria diventa arancione, con qualche limitazione in meno. Un segnale del governo, accolto dal facente funzioni Spirli con favore, che però sorprende un po', visto che i dati in Calabria non sono assolutamente positivi in questa fase e ci sono, persistono problemi per quanto riguarda i posti letto negli ospedali, non nelle terapie intensive che sono sotto la soglia di rischio del 30%, bensì negli altri reparti, tanto che si stanno allestendo gli ospedali da campo. Due notizie in un colpo solo, la scelta del commissario della Sanità e il cambio di colore della regione, che da rossa passa ad arancione. Il Consiglio dei Ministri ha dunque deciso, nella riunione iniziata alle 18 con all'ordine del giorno la scelta della guida commissariale del comparto calabrese, è arrivata l'attesa fumata bianca. Sarà Guido Longo, ex prefetto Vivo Valencia, il nuovo commissario della Calabria. Dopo una lunga serie di rifiuti e gaff clamorose, il caso è arrivato ad una svolta. La Calabria, intanto, si colora di arancione, un po' a sorpresa, considerati i dati non idilliaci delle ultime settimane e le difficoltà che si stanno affrontando con il reperimento di posti letto nelle parti di malattie infettive, situazione che ha portato addirittura all'allestimento degli ospedali da campo. Ma gli esperti che hanno valutato la curva epidemiologica e gli scenari prossimi futuri, nel monitoraggio settimanale, evidentemente hanno visto altro. Insieme alla Calabria diventano arancioni anche Piemonte e Lombardia, Liguria e Sicilia gialle. In zona arancione resta vietato uscire dal proprio comune, se non per ragioni di lavoro, istruzione, salute e per necessità. Ci si può muovere all'interno del comune liberamente dalle 5 alle 22, senza autocertificazione. Dalle 22 alle 5 scatta il coprifuoco, si può uscire di casa soltanto per comprovate esigenze. È consigliato il lavoro a distanza quando possibile. Si raccomanda fortemente di non invitare a casa propria persone non conviventi. Riaprono i negozi, tutti, senza limitazioni, ovviamente nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, garantendo lo scaglionamento degli ingressi e la frequente sanificazione del locale e degli spazi espositivi. Resta per ora lo stop durante le giornate festive e prefestive all'attività dei negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di genere alimentari, dei tabacchi, delle edicole. Salvo diverse indicazioni dei governatori, nelle zone arancioni gli studenti di seconda e terza media tornano a seguire le lezioni in classe. Nulla cambia per le scuole superiori, rimane attiva la didattica a distanza. Nulla cambia anche per le università, le attività formative e curriculari non si svolgono in presenza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e dei laboratori. Non cambiano le regole per bar e ristoranti, è consentito l'asporto e la consegna a domicilio, no alla consumazione sul posto. Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito a svolgere all'aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. Dunque, i due commenti dicevamo del presidente facente funzioni Nino Spirli per quanto riguarda la zona arancione, dice piccolo miracolo istituzionale e poi per invece la nomina di Longo, massima collaborazione con Longo, poi aggiunge naturalmente se vorrà. Andiamo al bollettino, o meglio l'estrema sintesi. Purtroppo ci sono cinque morti alti i contagi, soprattutto in provincia di Cosenza. 187, due di questi cinque recessi sono avvenuti a domicilio. In Calabria, ad oggi, sono stati sottoposti a test 347.932 soggetti, più 2.948 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 15.724, più 468 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi. A Cosenza, 187. A Catanzaro, 51. A Crotone, 87. A Vipo, Valencia, 24. A Reggio Calabria, 119. D'altra regione a Statoestero, 0. I ricoveri sul territorio regionale, ad oggi, sono 432. Nelle parti di malattie infettive, 44 nelle terapie intensive, 5 i decessi. Questo è il bollettino. Parlavamo di posti letto, della penuria che c'è in Calabria. Si discute su cosa si possa fare. Ci sono diverse strutture chiuse, ci sono gli ospedali da campo, si sta pensando ai covid hotel. Noi mostriamo oggi le immagini di una struttura che è costata 1.200.000 euro. L'ospis per malati terminali di Rogliano, mai entrata in funzione, potrebbe diventare una soluzione per il covid. La stanza attrezzata con il letto per il paziente, quello per l'accompagnatore, il bagno, la tv e sulla testata del letto l'ossigeno e gli altri attacchi necessari per l'assistenza al degente. E' peccato che la struttura sia, come testimoniano le immagini, pronta e vuota. Siamo a Rogliano, nel Cosentino. Questo è l'ospis allocato al secondo piano dell'ospedale Santa Barbara. Hospis che nelle intenzioni avrebbe dovuto accompagnare in maniera dignitosa i malati terminali. 14 posti letto, gli studi medici. Un progetto risalente a 5 anni fa e che nel 2018 sembrava sul punto di essere realizzato. Effettuati i lavori di adeguamento, come spesso succede in Calabria, sull'ospis è calato il silenzio. Per essere completato e attivo mancano solo comodini e armadietti. Investimenti importanti per una struttura che potrebbe, in questo momento di emergenza, dare risposte a malati covid. Resta invece, come la vedete, al buio. Eppure sono stati utilizzati i soldi pubblici per renderla operativa, per offrire un servizio primario alla collettività. Al danno si aggiunge la beffa. Guardate quest'ultimo locale destinato alla dialisi. Il lettino, ancora il cielo, fa nel materiale e innescato le chiuse a terra. Mentre all'annunziata è necessario ricorrere ai turni di notte per permettere ai dializzati di sottoporsi a terapia. L'ospis di Rugliano è un altro monumento del nulla in una sanità pubblica che avrebbe il potenziale per essere eccellenza. E invece si ritrova in affanno. Sui covid hotel esprimono perplessità un'industria e assoturismo. Metallo e Farina invitano a guardare in direzione degli ospedali chiusi. Ma sentiamo Demetrio Metallo. Noi abbiamo avuto un incontro con la regione dove abbiamo dato la disponibilità ma abbiamo espresso le nostre perplessità pieni. Abbiamo ospedali chiusi, lo abbiamo visto oggi ma lo abbiamo visto anche nelle scorse settimane. Abbiamo gli ospedali chiusi e si prendono gli alberghi. Diciamo che siamo un po' controcorrente. Noi parliamo prima da cittadini e poi parliamo da impresa. Io sono svalordito perché ci è stato detto che per alleggerire la pressione che c'è sugli ospedali occorre reperire hotel che possono essere hotel covid. Nelle altre regioni è stato fatto questo, ma è stato fatto quando? Quando i posti letto negli ospedali sono esauriti. Parliamo della Lombardia, parliamo del Lazio e di altre regioni. Ma gli ospedali nelle altre regioni sono tutti pieni e non ci sono posti letto chiusi. Non ci sono ospedali chiusi. Quindi è un po' un controsenso. Questo noi abbiamo detto. Per carità, abbiamo dato la disponibilità, abbiamo preso parte alla stesura del bando. Però con sincerità, noi siamo molto, molto, molto contrari agli hotel covid. Dicevamo dei tamponi. Abbiamo visto dal bollettino che la Calabria non riesce ad andare, almeno in questi giorni, oltre i 3.000 tamponi quotidiani. Sappiamo anche dei ritardi che ci sono, poi nel tracciamento dei contatti di casi in cui un tampone è eseguito il 20 novembre, poi ha il risultato alla persona interessata, arriva il 26 novembre. In questo lasso di tempo la persona che poi risulta positiva circola liberamente, perché non ci sono assolutamente strumenti per tenerlo in isolamento. Detto questo, ci sono delle città come Reggio Calabria che si stanno organizzando con i tamponi antigenici, uno screening di massa con 70.000 tamponi che stanno per arrivare. Uno screening di massa sul covid-19 partirà la prossima settimana. Lo ha annunciato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falco Matà, in diretta social, grazie alla disponibilità dimostrata dal commissario Arcuri di 70.000 tamponi antigenici. Prima di Reggio Calabria, solo la provincia di Bolzano e la regione Abruzzo ha fatto la stessa cosa. È una bellissima notizia che ci deve inorgoglire tutti, anche perché arriva forse nel momento peggiore da un punto di vista sanitario e non solo per la nostra regione, al centro di tantissime vicende negative, su alcune delle quali ancora aspettiamo delle risposte chiare, importanti, certe e soprattutto veloci da parte del governo, mi riferisco alla nomina del nuovo commissario alla sanità calabrese. Però proprio in questo momento peggiore la nostra regione, la nostra città metropolitana si distingue nel panorama nazionale per un progetto, per un'azione sperimentale che non ha eguali in Italia. Io ringrazio di vero cuore il commissario Arcuri perché questi tamponi non erano previsti per i comuni, non erano previsti per le amministrazioni comunali e quindi noi speriamo anche di poter rappresentare un esempio che poi anche altre città potranno seguire, perché dal Covid se ne esce in tanti modi, se ne esce rispettando le prescrizioni, se ne esce con le cure sanitarie, se ne esce anche con la prevenzione. E uno screening di massa ci consente di conoscere a tappeto su tutta la popolazione regina qual è la situazione anche rispetto al numero degli asintomatici che sono il vero problema, ma soprattutto ci consente di ricostruire il tracciamento e interrompere in modo secco e netto la linea del contagio. Ecco c'è un commento che riguarda il commissario per la sanità che dice di aver accettato come atto d'amore per la Calabria, che è la regione in cui mi sono formato professionalmente come funzionario di polizia, il mio anche è un dovere istituzionale verso il governo che mi ha scelto e che ringrazio. Lo ha detto appunto Guido Longo all'agenzia, nominato questa sera al Consiglio dei Ministri, commissario per il piano di rientro dal deficit della sanità calabrese. naturalmente avrà ampi poteri e compiti importanti. Andiamo a Castrovillari per parlare delle USCA. Uno dei presidi ritenuti fondamentali durante l'emergenza coronavirus è quello delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Si tratta di team medici che si occupano di seguire i pazienti covid nelle loro abitazioni attraverso visite e consulti a distanza. A Castrovillari il presidio è partito questa mattina. Si è partito nella nostra sede che abbiamo messo a disposizione l'Accademia dei Saperi e dei Sapori. Purtroppo non è partita nel migliore dei modi quanto al flusso, perché noi avevamo disposto tramite la protezione civile la regolamentazione del traffico in entrata e in uscita, ma evidentemente la gente, è vero che ne dovevano fare tanti, 120-130 tamponi molecolari stamattina, ma ben prima dell'inizio del servizio erano già lì in fila e hanno creato un po' di indasamento. Noi possiamo regolamentare con un ingresso e un'uscita ed evitare che tutti insieme arrivino a creare addirittura assembramento. Ecco perché dico, siamo contenti che è partito l'USCA, saremo più attenti alla prossima settimana per evitare traffico e assembramento. Da sottolineare inoltre che nei giorni scorsi è partita anche la tenda dove vengono eseguiti i tamponi antigenici mentre ci si sta attrezzando per rendere operativo il processamento dei tamponi molecolari presso il laboratorio analisi dell'ospedale di Castrovillari. E adesso alla cronaca, smantellate le piazze dello spaccio cosentino, l'operazione Salamandra, il comando provinciale cittadino di Abruzzi, ha portato all'arresto di nove persone, tre in carcere, cinque domiciliari, più un obbligo di dimora. Le indagini sono partite dal 2016, ricostruite dagli inquirenti più di 110 episodi di cessione di sostanze stupefacenti. Smantellate le piazze di spaccio nel Cosentino, nella notte è scattata l'operazione Salamandra, Cosenza, Montalto, Fugo, San Benedetto, Ullano, Torano, Castello, Mantovà e Milano. Cento i militari impiegati con l'accusa di detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sono finiti in manette nove persone, tre in carcere, cinque ai domiciliari, un obbligo di dimora. L'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza, supportati dai militari dello squadrone, è li portato cacciatori di Calabria e dalle unità cinofile antidroga. L'attività di indagini ha avuto inizio nell'ottobre del 2016, a seguito di una perquisizione domiciliare. In quella circostanza ha arrestato un giovane residente a San Benedetto, Ullano. Il monitoraggio dei contatti dell'arrestato ha permesso di individuare il traffico di droga. Individuate diverse piazze di spaccio nel capoluogo e nell'area urbana di Rennes, in numerosi paesi della Valle del Crati, tra cui Montalto, Uffugo, San Benedetto, Ullano, Lattarico, Torano, Castello e Bisignano. Nel corso della complessa indagine sono stati ricostruiti 110 episodi di spaccio, verificate estorsioni commesse da alcuni degli indagati per il recupero di crediti derivanti dalla vendita di quantitativi di sostanze stupefacenti. In particolare, uno degli indagati per recuperare il credito avrebbe preteso oggetti in oro. Altra ipotesi di reato contestata è il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di due ragazze romene. Il blitz è seguito con perquisizioni domiciliari e notifica delle ordinanze di custodia cautelare firmate dal GIP del Tribunale di Cosenza e coordinati dal Procuratore della Repubblica, Mario Spagnolo. Quello della droga, vera e propria emergenza nella città dei Bruzzi e nell'Interland. È un'operazione che è iniziata appunto nel 2016 ed è stata appunto condotta dai carabinieri della Compagnia di Rende a seguito della quale è stato possibile ricostruire proprio la rete, gli intrecci di diversi soggetti dediti proprio al commercio di sostanze stupefacenti. E questa attività appunto ha consentito anche di disarticolarne i canali di approvvigionamento e di smercio. Sono stati infatti cristallizzati e ricostruiti 110 episodi di spaccio, veramente tanti. Durante l'attività sono state anche svolte determinate attività di riscontro. Diversi sono stati gli arresti, le persone denunciate in stato di libertà e diversi anche gli assuntori segnalati alla locale prefettura. Con il rinvenimento e il sequestro ovviamente di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente. Parliamo di droghe che vanno dalle più leggere, quindi dalla marijuana all'hashish, sino ad arrivare alla cocaina e appunto durante l'attività è stato possibile anche rinvenire una vera e propria coltivazione di canapa indiana. Oltretutto durante l'attività appunto è stato possibile raccogliere degli elementi di prova in ordine ad altre fattispecie di reato, come appunto le sforzioni e il favoreggiamento, lo sfruttamento della prostituzione. Ad esempio in quest'ultimo caso alcuni degli indagati e la condotta possene essere dagli stessi consisteva, spaziava dal procacciamento dei clienti alla ricerca di locali, di immobili da appunto affittare a un prezzo più favorevole, sino a garantire alle donne appunto dedicate al meretricio dei veri e propri spostamenti logistici dai comuni dove esse appunto risiedevano sino alle vicine località marittime dove appunto erano considerate più proficue per la maggior presenza di turisti. Rapine e danni di autisti, furti in abitazioni, spaccio di droga, 5 arresti della polizia di Oio Tauro. Alle mie spalle il commissariato di polizia di Stato di Gioia Tauro dove è da poco finita la conferenza stampa dopo un'operazione importante che ha portato all'arresto di 5 persone accusate di avere compiuto negli ultimi anni diverse rapine a mano armata spacciandosi anche per rappresentanti delle forze dell'ordine. Una situazione che aveva creato davvero tanta paura, ora la polizia è intervenuta ed è riuscita a risolvere il caso. Ovviamente siamo ancora in una fase iniziale dell'inchiesta perché ulteriori sviluppi ci potrebbero essere. Le contestazioni agli arrestati sono 5 in tutto, 4 di Rosarno, 1 di Gioia Tauro, come dicevamo sono molto gravi. Rapina pluri, aggravata, danneggiamenti e anche vendita di sostanze stupefacenti. Nel corso di questa prima fase dell'inchiesta sarebbe stata fatta luce anche su un episodio di intimidazione che ha riguardato un professionista di Gioia Tauro, ma sul punto gli inquirenti e gli investigatori della polizia stanno mantenendo ancora la giusta riservatezza. In molti casi ci sono state rapine a mano armata, una situazione di violenza che questa gang aveva ovviamente imposto in tutta l'area. Infatti la situazione riguarda non solo Gioia Tauro, ma Rosarno e San Ferdinando, un'area come è stato riferito in conferenza stampa a particolare densità criminale. Arrestato a Luzzi in provincia di Cosenza un uomo italiano che si autoaddestrava per compiere attentati e era vicino alle cellule di Al-Qaeda. Sentiamo. Vi ricordate l'arresto di quest'uomo marocchino nel 2016 a Luzzi in provincia di Cosenza? Si tenuto un foreign fighters dagli investigatori, poi solo un anno fa la prima sezione perale della Suprema Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Oggi invece, sempre nel centro, alle porte di Cosenza, un cittadino italiano di 35 anni è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza del GIP su richiesta della DDA di Catanzaro per autoaddestramento e attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Nel materiale informatico sequestrato, gli investigatori hanno trovato manuali di istruzione sulla realizzazione di ordigni, tutorial sulla conduzione di operazioni terroristiche, documenti esplicativi sull'autoaddestramento per il compimento di attentati, nonché video di immagini cruenti di esecuzioni dell'ISIS, riviste ufficiali delle agenzie mediatiche dell'ISIS, Al-Qaeda e altri gruppi terroristici, oltre a documenti in lingua araba prodotti dall'indagato. Il provvedimento trae origine da un'indagine denominata Miraggio, condotta dalla Digos distrettuale di Catanzaro e di Cosenza, dal Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni e dal Servizio per il Contrasto all'estremismo e al Terrorismo Esterno, coordinata dal procuratore Nicola Gratteri. Gli accertamenti iniziati grazie alla segnalazione della presenza su una piattaforma digitale in lingua araba di contenuti di propaganda del terrorismo di matrice giadista. Gli approfondimenti della Digos sono stati affiancati da attività tecnico-informatiche e da intercettazioni telematiche, oltre ad ambientali e telefoniche. L'uomo disponeva di numerosi account su piattaforma social attraverso i quali partecipava a gruppi chiusi di connotazione giadista. Un lupo solitario che conferma anche in tempi di pandemia che i rischi legati ad eventi terroristici sono concreti. Dopo la protesta di ieri al centro di riabilitazione di Rende, oggi la replica dell'associazione Mamme di Gaia che risponde a chi chiede di spostare il centro di neuropsichiatria infantile. Sentiamo. Ho seguito al telegiornale il servizio che parlava proprio di questa protesta che è stata fatta sotto il centro di riabilitazione di Rende. Il problema sostanziale è che sono stati tirati in ballo i nostri bambini, che usufriscono del servizio di neuropsichiatria infantile e che nel momento in cui verrà spostato il servizio di terapia riabilitativa per adulti e occuperanno quegli spazi per poter riprendere in presenza le terapie che a loro servono per poter aspirare ad una vita autonoma. La decisione della dottoressa Bettelini e del direttore del distretto di Rende, il dottor Zuccarelli, a me sembra quella più logica, nel senso che non so se sapete che i nostri bambini, ciascuno dei nostri bambini, e sono 350 bambini in cura presso il centro di neuropsichiatria infantile e riabilitazione dell'età evolutiva di Rende, ha un'equip medica composta da una neuropsichiatra, una psicologa, un'assistente sociale e nella migliore delle ipotesi una terapista, quando non sono due, perché il servizio costa di neuropsicomotricità e di logopedia, quindi è un'equip composta da cinque operatori sanitari. Il servizio di riabilitazione per adulti, di fisioterapia e riabilitazione per adulti, è sostanzialmente composto da due o tre persone. Logicamente, cos'è più facile spostare? Un intero servizio, tenete conto che saranno una trentina di persone al piano di sopra neuropsichiatria infantile, una trentina di persone oppure spostare due persone. È ovvio, il servizio a Rende fa comodo, tutti quanti siamo d'accordo, sono d'accordo anch'io come malata reumatica, ma se non c'è un luogo adatto in cui spostare, ovviamente la dottoressa Bettelini e il dottor Zuccarelli si sono dovuti arrangiare spostando verso Cosenza e verso Serraspiga, che è il centro più grande. Bisogna anche tener conto di una cosa, Serraspiga ha già un servizio di neuropsichiatria infantile, come si poteva pensare di spostare lo stesso servizio nello stesso location? Prima di parlare informiamoci, soprattutto non tiriamo in ballo bambini, che nel dolore ci sono nati. Possiamo anche fare un appello al sindaco di Rende, avvocato Marna, se vogliamo mantenere il servizio diamo una location adatta a questi servizi e spostiamo a Rende e le due fisioterapiste per la riabilitazione per adulti. Io so che per il centro vaccinale c'è un edificio che il Comune ha dato in uso all'Asp, ma che ha bisogno di lavori strutturali che in questo momento storico l'Asp non può assolutamente fare, anche perché tutte le risorse sono impegnate in una pandemia, lo sappiamo tutti. Di conseguenza cerchiamo di venirci incontro anche in chiave solidale. Parliamo invece di scuola e salute perché i pediatri cosentini chiedono di tenere chiuse le scuole a dicembre, i pediatri famiglia sono consapevoli, scrivono una lettera della grande importanza che riveste la scuola per lo sviluppo psicologico, intellettivo e affettivo di bambini e ragazzi che rappresentano quasi la totalità dei nostri pazienti, ma pur consapevoli che sono meno colpiti dai virus, elencano una serie di motivi come l'attuale sistema di sorveglianza epidemiologica dei contagi attraverso i tamponi molecolari che spesso vengono eseguiti in ritardo, la moltiplicazione dei ricoveri in terapia intensiva, gli isolamenti domiciliari nell'ultimo mese nonché anche i decessi e poi considerano che l'apertura delle scuole a ridosso le vacanze di Natale potrebbe favorire la trasmissione del SARS-CoV-2 e veicolerebbe il virus negli ambienti familiari e in più c'è il virus influenzale che probabilmente circolerà nel mese di dicembre insieme a quelli parafluenzali che rischiano di avere una causa di sintomatologia difficilmente distinguibile in prima istanza da quella di SARS-CoV-2 senza un tampone molecolare. Detto questo chiedono che le scuole rimangano chiuse nel mese di dicembre per poi riaprire eventualmente dopo l'epifania se, come si spera, si avrà una gestione delle festività di fine anno con prudenza e buonsenso, una situazione migliorata dal punto di vista epidemiologico. Adesso cambiamo argomento, passiamo all'economia e il rapporto economico della BCC con Demoscopica sul territorio cosentino rischiano di chiudere migliaia di aziende. Il 2020 sarà ricordato come un vero incubo da oltre il 60% degli imprenditori per un crollo dei ricavi, soprattutto per i settori dei servizi, commercio e costruzioni, ben oltre la soglia psicologica del 50%. Ogni mese di lockdown costa al sistema economico regionale quasi 800 milioni di euro. Lo rivela il sedicesimo rapporto economia della BCC Mediocrati, redatto da Demoscopica. L'imprenditore calabrese è smarrito ma resiliente. Si tratta esattamente di un allarme rosso. Basti pensare che almeno il 60% degli imprenditori di questo territorio regionale sono fortemente preoccupati da un ritorno violento della crisi economica innescata dall'emergenza finanziaria. Il 51% teme una recessione economica che possa prolungarsi negli anni. Noi stimiamo che 21 mila imprenditori calabresi potrebbero chiudere i battenti tra la fine del 2020 e il 2021. Il sistema pubblico viene percepito come inefficiente da quasi 4 imprenditori su 10 che temono anche la pressione della criminalità e la concorrenza del mercato online e molti stanno perdendo la fiducia nel futuro anche se il sistema bancario sta provando a dare una mano. Io penso che il sistema bancario in questo momento di pandemia sta facendo molto. Per quanto ci riguarda come banca mediocrati in questo anno abbiamo erogato 100 milioni di mutui, 3.000 mutui erogati. Abbiamo sospeso 2.000 mutui circa per 125 milioni di euro. Insomma per una banca di territorio è uno sforzo notevole perché a fronte di questa erogazione c'è un impegno anche di accantonamenti che in ogni caso incidono sul conto economico della banca. E adesso vediamo come ha chiuso la borsa. Giornata positiva per le borse del vecchio continente in linea con l'andamento di Wall Street. L'attenzione è focalizzata principalmente sul settore retail e di commerce con gli operatori in cerca di nuovi driver per alimentare ulteriormente il rally delle ultime settimane che ha portato l'azionario globale sui massimi da circa 20 anni. Trump ha affermato che acconsentirà il passaggio di consegne se il collegio elettorale decreterà la vittoria del rivale ma non ammetterà la sconfitta e potrebbe disertare la cerimonia di giuramento del neopresidente. Nel frattempo la pandemia comincia a dare segnali di stabilizzazione anche se il numero di contagi rimane elevato e ci vorrà tempo per allentare le restrizioni alle attività. Permangono anche i problemi logistici legati alla distribuzione dei vaccini nei prossimi mesi. Sul fronte macro l'indice di fiducia dei consumatori in Italia si è attestato a 98,1 punti al di sotto delle attese degli analisti a 99 punti dopo i 101,7 di ottobre. Così il Fuzzi Mib di Milano archivia le contrattazioni a più 0,7% bene anche l'Ibex 35 di Madrid a più 0,9 il CAC 40 di Parigi a più 0,6 il Dax di Francoforte a più 0,4 e il Fuzzi 100 di Londra a più 0,2%. Positivi oltreoceano anche il Dow Jones a più 0,1%, l'S&P 500 a più 0,3% e il Nasdaq a più 1% che oggi archivieranno gli scambi anticipatamente alle 19 ore a tegliana in concomitanza con il Black Friday. Sul Forex il cambio euro-dollaro sale a 1,195 e il dollaro-Iene in calo a 104,1. Tra le materie prime poco mosse le quotazioni del petrolio con il Brent a più 0,2% a 48 dollari e il VTA in calo a meno 0,4% a 45,3 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 118 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,6%. Tornando a Piazza Affari Fra le big cap gli acquisti premiano soprattutto Era a più 2,85, Prismian a più 2,7 e Amplifon a più 2,4% mentre arretrano Pirelli a meno 2,05% Saipem a meno 1,8% e Leonardo a meno 1,7%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E adesso il meteo, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria ci apprestiamo a vivere un venerdì interlocutorio con tempo stabile su tutta la Calabria e qualche addensamento in più sui versanti ionici in attesa di un nuovo peggioramento causato da un'aria depressionaria che evolverà dalle isole Baleari verso Levante e di cui primi effetti si avvertiranno sulla nostra regione nel corso della giornata di sabato dal tardo pomeriggio sera. Domani al mattino cielo generalmente velato nel corso del pomeriggio sera deciso aumento della nuvolosità a partire dalla Calabria meridionale con piogge sparse soprattutto sui settori ionici in estensione sul resto della regione. Passiamo a mari e venti domani mari generalmente mossi nel corso della giornata deciso aumento del moto ondoso sul Marionio dove i venti ispireranno generalmente dei quadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui ci vediamo nelle prossime edizioni grazie per la vostra attenzione arrivederci vi auguro una buona serata. grazie per la visione grazie per la visione